Rientro in classe oggi per alunni e docenti delle scuole dell'infanzia, primaria e media della città di Sciacca, scuole che erano state chiuse martedì scorso dal sindaco Francesca Valenti, ufficialmente per una sanificazione, ma è chiaro che il provvedimento era legato all'allarme contagiche che si era nuovamente generato in città a fronte dei 54 casi di positività che erano venuti fuori dai test rapidi e che sono stati poi smentiti dai tamponi molecolari. Ovviamente continua la didattica a distanza per gli istituti superiori, provvedimento che rientra nella classificazione della Sicilia tra le zone arancione. Il ritorno in classe per le scuole di base della città di Sciacca è stato questa mattina regolare, senza quelle assenze che una settimana fa erano la testimonianza dei timori delle famiglie in relazione a quelli che si sono poi rivelati solo casi presunti di covid tra alunni e docenti. Alla ripresa dell'attività in presenza, solo l'istituto comprensivo Mariano Rossi questa mattina ha avuto un problema legato all'approvvigionamento idrico. È saltato un turno di distribuzione nella zona e la cisterna della scuola era secco. Era già successo la scorsa settimana prima della chiusura e oggi a segnalare la problematica sono stati anche i consiglieri Sant'Angelo, Monte e Deliberto. In realtà, secondo quanto riferito dalla scuola, l'amministrazione ha provveduto ad inviare un autobot e poi in mattinata è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici di Girgenti Acque per appurare se il problema è legato soltanto al turno di erogazione non garantito o se sono necessari altri interventi per evitare che l'istituto Rossi rimanga ancora senza acqua.